salve ragazzi allora siccome mi è stato chiesto una piccola spiegazione di come funzionano queste nuove puntate che faccio dedicate alla virtual urbex la urbex è un'esplorazione notturna o giornaliera di un ambiente chiuso abbandonato fatiscente dove si presume che ci siano anche delle presenze oppure comunque si va allo stesso a fare questa indagine con una buona telecamera meglio se full spectrum e con un microfono e vp se possibile in questi ambienti quando si torna a casa abbiamo un bellissimo video da vedere molto emozionante però è a colori e non si vedono nelle presenze non si sentono manco i suoni quindi il video andrebbe elaborato come sto facendo io con un software e va presa solo la banda infrarossa che sotto gli infrarossi la piccola bandina di frequenza alta che si avvicina a quella del calore si prende quella frequenza lì dove c'è dentro questa immagine che vedete dietro di me e gli si dà un verde perché di solito se no è trasparente l'infrarosso i nostri monitor lo presentano in trasparenza quindi gli va dato un verde per vederlo presa la banda infrarossa che questa qui verde che vedete dietro di me già nel video si vede un casino di cose in più tutte quelle che fanno parte della vista all'infrarosso che è interessantissimo in più ci posso abbinare sopra un programma tipo kinet oppure sls della vostra tube come sto facendo ultimamente il quale se percepisce delle energie e hanno una forma umana me le tratteggia vedete con questo colore qui viola e mi fa vedere le gambe le braccia alla testa dell'eventuale personaggio in forma energetica che è davanti a noi quindi con questo sls si riesce a vedere dentro una urbex è già fatta se c'erano delle presenze e dove si trovano come si muovevano che cosa facevano sto facendo queste puntate sicuramente interesseranno perché sono parecchio emozionanti da vedersi perché si vedono delle vere e proprie presenze dentro degli ambienti abbandonati durante una urbex il regista che ha fatto la urbex e non se ne accorge perché in quel momento non poteva vederli ma noi in post elaborazioni li vediamo ok ragazzi su youtube e metterò tutte queste puntate di queste virtual urbex così potete riguardarvele un abbraccio grande da stefano probabilmente dopo cena ci sarà un'altra puntata di virtual urbex ciao ragazzi un abbraccio